Eeeh... pubblicato! La scorsa recensione di 22 minuti su un film degli anni 80 è stata molto diversa dal solito. E anche se mi hanno portato via molto tempo, è stato divertente provare qualcosa di nuovo e penso che il video sia piaciuto. Non è vero, mio piccolo adorabile Chamberlain? Beh, per fortuna non dovrò mai, e dico mai, tornare a parlare di questa serie. Ne sei proprio sicuro? Nello scorso video mi sono ritrovato a parlare di un film su delle marionette uscito 40 anni fa e l'ultima cosa che mi aspettavo era sentire che hanno fatto un remake di recente. E ogni singolo giorno da allora, in tantissimi, mi avete insultato e avete commentato dicendo James, sapevi che Netflix sta realizzando una serie su Dark Crystal? Beh, certo! Avete idea di con chi state parlando? Se non sapete perché sto dicendo così, vi consiglio di guardare il mio ultimo video che ho diviso in due parti. Il film che mi ha traumatizzato. In quel video ho recensito un film horror per bambini chiamato Dark Crystal. È stato ideato e diretto da Jim Henson, il creatore di Muppet. Motivo per cui questo film è stato realizzato interamente con i pupazzi. È uscito prima che io nascessi, ma in qualche modo l'ho guardato e mi ha segnato la vita. Nella mia recensione ho detto alcune cose positive del film, ad esempio che era un film molto creativo e artistico, ma ho anche detto alcune cose... negative? Come youtubers a volte ci dimentichiamo che i nostri video sono pubblici e possono essere visti da chiunque. E quando parliamo di aziende a volte dimentichiamo che a quelle proprietà sono legate persone reali che hanno dedicato centinaia di ore a questi progetti. E c'è la possibilità che vedano i nostri video. Mi è insaputa Lisa Henson, attuale amministratore delegato o CEO della Henson Company. Ecco, ha visto il video e io non ho minimamente pensato che sarebbe potuto accadere. È chiaro che se avessi saputo che Lisa Henson avrebbe guardato il mio video, probabilmente avrei formulato qualcosa in modo diverso. Ma non credo però che si sia arrabbiata più di tanto, perché mi ha invitato a visitare l'ufficio della Henson e ho potuto vedere un pupazzo di skexies in carne ed ossa, cosa che mi ha fatto riaffiorare brutti ricordi. Io ho anche avuto modo di incontrare alcuni burattinai. Inoltre, prima dell'uscita del nuovo Dark Crystal, sono stato contattato da Netflix, che ha invitato me ed altri fan a una proiezione anticipata dei primi due episodi e... ho firmato un accordo per non spoilerare nulla. Non ricordo se sono ancora sotto contratto o posso parlare liberamente. Spero di essere al sicuro. Quando ho assistito alla prima proiezione, ricordo di aver pensato a quanto fosse bello che questi personaggi e questo mondo fossero tornati sul grande schermo. E lo schermo di Netflix è grande. Le marionette e la fotografia sono migliorate. E il fatto che il 95% del film sia stato realizzato puramente con effetti speciali e pupazzi è bellissimo. Non c'è un solo essere umano in questa serie, tranne per l'episodio 10, quando la testa di questo burattinaio si vede per un paio di fotogrammi. Ho appena controllato e ormai l'hanno tolto. Ma io l'ho visto. È stato dedicato così tanto tempo, cura e duro lavoro a questa serie che ha stato realizzato un documentario su quanto sia stato difficile farla. Se qualcuno se lo sta chiedendo, no. Raunip non compari nel nuovo Dark Crystal. E non c'è nessun pupazzo di gen nudo. Inoltre, se temevate che la serie non sarebbe stata coppa e spaventosa, come l'originale. È più coppa e spaventosa dell'originale, ve lo assicuro. L'account Twitter di Netflix è stato così gentile da segnare l'ora di ogni parte spaventosa della serie. Infatti nell'episodio 10 succede di tutto. Ma sorprendentemente non hanno inserito nella lista nera la scena degli Skeksis che fanno pipì da tre buchi diversi nell'episodio 6. A 28 minuti e 41 secondi. Che brutta cosa. Dal punto di vista artistico, quindi, questa serie è bellissima. Ed è stata lasciata aperta per una seconda stagione e io voglio assolutamente che continui. Non farò nuovamente un riassunto della trama perché non voglio che questo video duri un'ora. E sarebbe opportuno che lo guardaste da soli. Non devo dare tutto io per voi. Non sono vostra madre. Ma ci sono alcune cose che dovreste sapere prima di guardare la serie. Spoilererò qualcosina, ma non più di tanto. Così nessuno si arrabbia. Su questo pianeta alieno vivono delle creature chiamate Gelfling. Possono condividere i ricordi l'uno con l'altro tenendosi per mano. Questa ragazza ha le ali. È una creatura chiamata Augra che esiste fin dall'inizio del mondo. Chi altro non è che la nonna impertinente di Yoda. E poi dal nulla arrivano questi tre alieni. Prestate bene attenzione. Rompono questo importantissimo cristallo. E così facendo si dividono in due creature diverse. La loro parte buona diventa questi cosi chiamati mistici, che sono stupidi. E il loro lato cattivo diventa questi mostri uccello fighi chiamati Skeksis. Che hanno conquistato il mondo intero, quindi wow. Nulla di tutto questo viene spiegato nel film originale. E nella serie viene spiegato solo al settimo episodio. Ma credo che la storia dell'albero alieno avrebbe dovuto dare il via alla serie. Ecco perché l'ho spoilerata. Il film originale, di la durata di 90 minuti, conteniva una grande quantità di lore. E questo nuovo reboot ne ha aggiunti ancora di più. C'è persino un personaggio chiamato un lore. Ma quanti lore volete aggiungere ancora? A proposito di nomi, nella serie ci sono un sacco di parole inventate. E a volte queste parole inventate sono difficili da ricordare. Poi, nel primo minuto di Dark Crystal, il narratore ci dice che ci sono sette clan dello scheletro. Ma ne nomina solo tre. Perché ci sono solo tre importanti di cui dovremmo ricordarci. Sapete, nemmeno io conosco i nomi degli altri quattro clan e sono tipo il primo fan in assoluto. E ci sono circa dieci mostri Skeksis. Tutti con nomi tipo Skekso, Skekslo, Skeklo e Shrek. Ma la maggior parte delle volte si chiamano con nomi più comuni. Come Chamberlain o l'Imperatore. Ma, eccedenti, non riesco proprio a ricordare questi nomi. Questo è quello sempre impegnato. Questo è quello che ha fatto quella faccia strana nel film originale. E questo ha una voce che non assomiglia affatto a quella di uno Skeksis. Un'altra cosa da sapere è che ho trovato questa serie piuttosto lenta. Forse perché sono impaziente o perché sono abituato a guardare video di YouTube esclusivamente a velocità per due. Ma vi ricordate che nel film originale c'era questa scena in cui lo Skeksis con abiti vittoriani ce ne aveva per due minuti interi e visivamente era coinvolgente. Ma per tutto il tempo non fai altro che pensare Sì, ho capito. Ebbene, nella serie ci sono molte scene di questo tipo. Prendiamo ad esempio l'inizio del secondo episodio. Inizia con un personaggio che non abbiamo mai visto prima che si sveglia si mette le scarpe ripara il porridge si rovescia il porridge sulla camicia si spazzola i capelli scuote la testa e prende delle cose per pulirsi. È un minuto intero di questo personaggio senza nome che si prepara per la sua giornata ed è fantastico ma toglietela per favore! E potreste dirmi che sono cattivo se questo fosse l'unico esempio ma credetemi ci sono un sacco di altri esempi solo che non voglio spoilerarveli Nel trasformare un film di 90 minuti in una serie televisiva di 9 ore si avranno dei riempitivi o delle scene che non necessariamente portano avanti la trama e li ha viste tutte. Per fortuna ho trovato questo plugin per Chrome che consente di guardare Netflix a velocità doppia La realizzazione di questo video mi ha fatto pensare ai piccole e a quanto sia difficile farli Nel film originale ci sono solo due gelfling rimasti in tutto il mondo Quindi se fai un prequel con un mondo con sette diversi clan di gelfling il pubblico sa che succederà qualcosa di brutto che porterà all'estensione di gelfling La serie ha anche aggiunto questo oggetto illuminato a forma di spada che avrebbe dovuto salvare il mondo Ma quando l'ho guardata ho pensato Ehm... no? Non è così che si salva il mondo Non prima del 1982 Ci sono personaggi che non possono morire perché sono nel film originale Ma ragazzi c'è per caso almeno una singola scena che vi fa pensare che un protagonista muore Mi fa quasi pensare che gli sceneggiatori si siano ispirati al Dark Crystal degli anni Ottanta e abbiano rifatto la serie in un universo assistante I recensori di film tendono a concentrarsi sugli aspetti negativi Ma non voglio possare per cattivo perché questa serie mi è piaciuta molto e voglio la seconda stagione Concludiamo questo video con alcune cose che mi sono piaciute di questa serie Mi piace che abbiamo visto le Skeksis con più personalità perché sono sempre stati così malvagi Lo Skeksis cacciatori ha raggiunto un nuovo livello di figaggine Tutti gli altri Skeksis non sono mai apparsi minacciosi Cioè guardate come camminano lenti potrei picchiarli Ma il cacciatore... Ah amico! Era fantastico! Potremmo diventare amici! Mi piace che la serie non abbia smorzato l'oscurità e che anzi l'abbia amplificata perché tutti quelli come me dovrebbero avere una profonda paura tipo pazzi Ah e ci sono anche grandi scene del Dark Crystal originali tipo questa Sappiamo tutti che è la prima cosa che fa nel film originale Se Eladon è un sacco di spazzatura e non merita un minimo di attenzione Il doppiaggio è fantastico ci sono un sacco di persone di talento che doppiano questi personaggi tipo Luke Skywalker E uno youtuber di nome Barney Dixon che ha realizzato questi fantastici pupazzi da dito Pensate ha lavorato ad una scena in cui i pupazzi mettono in scena un mini spettacolo di marionette Paradossale eh? E questo è tutto ciò che mi è piaciuto di Dark Crystal In conclusione se avete 9 ore di tempo scaricate il plugin di Chrome impostate la velocità per 2 e risparmiate 4 ore e mezza ma vedilo Ah dirigenti se avete ancora bisogno di qualcuno che interpreti la Unip E là sono qui grazie a tutti e Grazie.